Salve, voglio parlare oggi di Henry Bergson relativamente alla questione del tempo, rapportando la sua concezione all'eternalismo severiniano. Dunque, Bergson giustamente distingue il tempo misurabile della scienza, che è un tempo illusorio, non reale, con il tempo effettivo, che è quello della coscienza. Il tempo della scienza è quello misurabile, ritenuto oggettivo, è quello quindi quantificabile. Invece il tempo esperito come durata della coscienza è, giustamente, il tempo reale. Un minuto di gioia non è equivalente a un minuto di dolore. Le esperienze sono esperite in modo diverso e il tempo della coscienza coincide con il modo in cui viene esperito un certo tipo di eventi. Però, la durata non può essere solo l'esperire una sequenza di eventi, o meglio, non può essere solo la percezione qualitativa della durata di una certa successione di eventi. Dunque, il tempo è la successione delle varie configurazioni che appaiono nella nostra coscienza. Prima di avere a che fare con la successione, noi abbiamo a che fare con l'apparire delle sue parti. Ad apparirci è un insieme di configurazioni che includono anche i pensieri, le emozioni, le sensazioni, il modo di intuire e percepire le cose. Quindi, non si parla solo di configurazioni del mondo dal punto di vista empirico, sensibile, ma integralmente. Quindi, cos'è il tempo? È innanzitutto l'apparire e poi il successivo non apparire più di tutte le varie configurazioni della realtà che appaiono nella propria coscienza. Laddove la coscienza va intesa innanzitutto come l'apparire trascendentale, cioè il manifestarsi stesso del mondo. Bergson, come quasi tutti i filosofi che sono venuti prima di Severino, ha pensato che a percepire il mondo fosse un soggetto, un mio empirico, anche se non concependo, anche senza concepire però il rapporto tra soggetto e oggetto come ha fatto il materialismo ontologico o l'idealismo. Ma potremmo dire in una via di mezzo di entrambi. Infatti, per Bergson, il mondo che appare non è un mondo esterno, ma non è neanche una percezione creata dal pensiero del soggetto. Non è una rappresentazione idealistica, non è una proiezione del soggetto, ma non è neanche un mondo esterno dal suo essere esperito. È una via di mezzo. Il mondo materiale è come una serie di immagini, per Bergson. Il cervello non è inteso come il contenitore delle esperienze, ma come un mediatore tra il soggetto e il mondo, dove la percezione, diciamo, anzi, la memoria, sarebbe l'attività spirituale, coscienziale del soggetto. Quindi la coscienza immagazzinerebbe dei ricordi che però non sarebbero dentro il cervello. E ad esempio, negli suoi studi sulla memoria, nel testo Materie e Memoria, ha spiegato come il caso di alcuni pazienti con danni cerebrali riuscissero comunque a ricordare degli eventi con determinate pratiche e cure e questo, secondo Bergson, dimostra che allora i ricordi non possano essere collocati all'interno di alcuni schemi neurali, perché se vi fosse un danno che rendesse impossibile per il cervello di accedere a certi schemi, allora sarebbe irrecuperabile, non sarebbe possibile rievocare il ricordo. E quindi, in realtà, il ricordo non è ridotto, la memoria non è ridotta a una componente cerebrale. Tra parentesi, questa idea ricorda anche dei principi dell'universo olografico. Karl Pribram, esperimento sul cervello dei topi, sezionando il cervello dei topi, togliendo alcune parti del cervello, si è scoperto che dei topi in un labirinto riuscissero lo stesso a ricordare, anche se con difficoltà, come uscire fuori dal labirinto. E di nuovo, questo suggerisce che quindi la memoria non sia collocata in un punto specifico del cervello, e che addirittura, dal punto di vista dell'universo olografico, come teoria, il cervello possa essere inteso come un lettore di ologrammi. Io vedo molte affinità tra quel modello lì e quello di Bergson. Tuttavia, non è esattamente il mio modello. Infatti, io da questo punto di vista aderisco all'immaterialismo di Berkeley, nella misura in cui è integrabile nell'eternalismo severiniano, che è la teoria base, imprescindibile degli studi che porto avanti. Ed è il fondamento implicito di tutte le altre teorie. Perché ho detto, quindi ho fatto questa precisazione, perché dell'immaterialismo non accolgo tutto, accolgo solo quella base giusta, comunque non incontrovertibilmente fondata, che però può acquistare quella incontrovertibilità se le si integra la struttura originaria. Vi sono dei punti di convergenza, delle grandi analogie, tolte le dovute differenze e gli errori nichilistici che Berkeley ha fatto, ha compiuto. Anche il cervello, infatti, è un insieme di immagini, di qualità sensibili, anche dire sensazioni. È sbagliato, come fa ad esempio l'idealismo, in generale. O come fanno teorie alla Matrix, che addirittura propongono che il cervello esista realmente, ma che poi percepisca un mondo illusorio, perché è collegato a un computer che invia degli impulsi elettrici. È un po' come anche la questione posta da Patnam, il cervello in vasca. Non è così. Non è che il cervello sia un oggetto reale, fisicamente parlando, che poi però percepisce immagini mentali dentro di sé che dovrebbero essere o una copia di un mondo esterno, o addirittura una rappresentazione a cui non corrisponderebbe nessun mondo esterno fisico. No, no, no. Questa posizione io l'ho criticata completamente, in realtà. Sebbene però abbia provato a spiegare in vari anni che è la posizione base adottata dal paradigma materialista scientifico. Non tutta la scienza è d'accordo con tale paradigma. Infatti, vi è chi sostiene che la percezione non avvenga dentro il cervello, ma che avvenga tra il corpo e il mondo. Ma questo vuol dire che allora la mente stessa sia estesa oltre il corpo. Tant'è che, ad esempio, Daniel Dennett, studioso della mente, studioso che afferma a prospettiva molto nichilista, addirittura ritenendo che l'io non esista. Dove l'io, però, da quello che ho potuto capire, lui lo ritiene essere una sorta di illusione della coscienza. Allora, se le cose sessero così, potrei anche in parte capire, sebbene non condividere. Ma, se Daniel Dennett intendesse dire che la stessa coscienza sia un'illusione, allora bisognerebbe chiedersi illusione di chi? Chi è che esperirebbe quella illusione? La materia, allora la materia sarebbe cosciente nel momento in cui esperisse l'illusione di essere cosciente. Ma allora la coscienza in quanto tale non sarebbe illusoria, sarebbe illusoria una certa idea. No? Comunque, a prescindere da queste posizioni, io apro e chiudo queste parentesi, faccio queste digressioni perché ci sono dei collegamenti che poi ho maturato negli anni su queste problematiche. però Daniel Dennett lo cito perché lui ha sostenuto la teoria della mente estesa proprio perché non poteva diciamo accogliere l'idea che il mondo da noi esperito in carne ed ossa fosse un insieme di sensazioni cerebrali come se queste fossero una copia del mondo esterno. No? Non è possibile. giustamente ha intuito l'impossibilità di quella idea però ha dato una risposta a mio avviso comunque sbagliata e ho fatto anche un video almeno un video a tal proposito perché la teoria della mente estesa e qui chiudo la parentesi beh presuppone sempre che la mente sia creata dal cervello e che il cervello riesca a a far estendere la mente oltre se stesso ma come? Questo è il problema ma come potrebbe la mente prodotta dal cervello uscire fuori? Allora la mente cosa sarebbe a questo punto? Certamente oltre il cervello sarebbe qualcosa di non lo so quasi trascendente rispetto al pieno materiale cioè riuscirebbe a trascendere i limiti stessi del cervello uscendone fuori perché poter percepire direttamente il mondo ritenendo l'esterno dal proprio cervello significherebbe per la mente dover essere in grado di uscire fuori per percepire direttamente le cose quindi la teoria della mente estesa è un'idea contrapposta al rappresentazionalismo che però a mio avviso è la teoria più coerente anche se sbagliata all'interno del materialismo ontologico infatti se si assume che la mente sia prodotta dal cervello o che addirittura la mente sia il cervello allora la teoria più coerente sulla percezione è di ritenere che i contenuti realmente esperiti nella sensazione nella percezione non siano gli oggetti esterni ma delle loro rielaborazioni cerebrali interne con tutte le implicazioni e le problematiche che poi ciò comporta perché ovviamente il fatto che sia a mio avviso la teoria più coerente non vuol dire che sia giusta ma nella sua erroneità è la più coerente a mio avviso le criticità le ho già evidenziate e non ci ritorno insomma è impossibile comunque anche il rappresentazionalismo è impossibile che le cose che noi percepiamo normalmente siano delle immagini mentali dentro il cervello possono essere immagini tra virgolette mentali ma non possono essere dentro il cervello ora si noti anche una cosa quando si parla di immagini mentali non si deve presupporre che la mente sia prodotta dal cervello o sia dentro il cervello la mente originaria adesso ritorniamo a severino per esempio per poi ricollegarci al problema del tempo avanzato anche da Bergson la mente originaria è l'apparire trascendentale stesso e non è un apparire a qualcuno si noti io sto cercando di fare questo breve scursus facendo questi collegamenti perché la questione in realtà è sterminata si dovrebbero fare video di ore per ognuno di questi aspetti la questione è complessa e il problema è che la prospettiva nichilista che caratterizza la storia della filosofia ha adottato una serie di premesse sbagliate che fanno capo all'idea nichilista del divenire tra cui l'idea che appunto il mondo sia percepito da un io empirico che sia inteso come corpo o una mente dentro il corpo poco cambia anche Bergson in parte ha sostenuto una cosa del genere lo dico non come in maniera diciamo più comune è stato fatto da altri pensatori però ricade comunque grossomodo in quella idea perché Severino ha contestato giustamente questa idea perché l'apparire è il fondamento anche dell'io empirico l'io empirico appare nell'apparire trascendentale non può essere il fondamento dell'apparire trascendentale l'io empirico che noi esperiamo non può essere la sede dell'esperienza perché a sua volta è un che di esperito da chi dalla struttura persintattica che noi siamo dallo sfondo dell'apparire che noi siamo e che a noi non può apparire direttamente perché è lo sfondo dell'apparire però ci appare la sua traccia e questo sfondo si esperisce in modo non diretto o meglio in modo diretto ma mediato sembra un controsenso ma cercherò di spiegarlo attraverso una struttura dell'apparire complessa la triplice struttura dell'apparire ovvero non appare solo il contenuto empirico si mostra anche il suo apparire ed anche questo apparire è un fatto che appare ma appare in un'unica struttura che si si autoriflette in questo modo in se stessa in ogni momento della realtà che ci appare vi è questa triplice struttura originaria non cronologicamente data ma originariamente data quindi non vi è un primo apparire un secondo e un terzo che si susseguono sono tutti uno insieme all'altro in un'unica struttura sono inseparabili non ci sarebbe l'uno senza l'altro sono distinti ma non separati e compongono un'unica struttura quindi un'unica forma dell'auto apparire insomma il soggetto che sperimenta la realtà non è l'io empirico che appare in questa struttura ma è la struttura stessa che si autoesperisce in questo modo come se avesse dentro di sé come se fosse essa due specchi uno di fronte all'altro che si autoriflettono l'uno si riflette nell'altro che gli restituisce la sua immagine e così si vede potremmo dire in modo diretto perché vede comunque effettivamente se stesso ma in modo mediato sembra un controsenso però la mediazione è fondata su una struttura però originaria non su qualcosa che a sua volta sia mediato da altro allora teniamo conto di questo queste sono già delle differenze Bergson pensava comunque che in qualche modo il mondo fosse espedito da un soggetto che però è in un rapporto particolare con il mondo e che il cervello fosse un tramite tra l'interno e l'esterno nel pensiero di Severino no il cervello non può essere la sede dell'apparire esso stesso fa parte dell'apparire e qui c'è un'analogia con Berkeley anche per Berkeley il cervello sensibile non può essere un contenitore della coscienza della percezione e quindi dell'apparire delle idee sensibili per Berkeley il mondo che appare è un insieme di idee sensibili i colori le forme eccetera gli alberi le nuvole sono un insieme di quelle qualità che sono idee sensibili cioè non sono pensieri non sono immagini vuote ma sono immagini concrete pensate eternamente da una mente infinita poi lasciamo perdere che abbia inteso quella mente come il dio biblico quello è un dogma che non ha dimostrato però la base rimane buona e ci sono delle analogie con l'ontologia severiniana per l'ontologia in questione il mondo che appare è un insieme di determinazioni che sono reali per come appaiono immediatamente ma non sono reali per come interpretate attenzione che cosa significa che quando ci appare un albero secondo severino non è che ci appaia direttamente un albero come oggetto fisico o ci ci appaia mai nell'esperienza un albero come oggetto empirico in divenire quella è l'astrazione l'esperienza fenomenologica che si dà è un'esperienza composita strutturata da diversi aspetti l'esperienza fenomenologica è l'apparire di determinazioni sensibili e assieme di altre determinazioni che sono di natura psicologica cognitiva coscienziale ma appunto sono diverse determinazioni che non si mischiano tra loro quando noi vediamo un albero e lo sperimentiamo come se fosse un oggetto esterno naturale empirico non bisogna confondere i colori le forme che di esso appaiono e che sono qualità sensibili mentali come ha dimostrato Berkeley e come risulta confermato implicitamente dal discorso severiniano con le sensazioni psicologiche emotive intuitive intuitive lo ripeto intuitive che accompagnano quelle sensibili dell'albero e che ci fanno sentire che quell'insieme di colori e forme che noi chiamiamo albero sia un oggetto empirico in divenire non vanno mischiate le cose io sto solo provando a spiegare il perché a noi le cose appaiono come se fossero oggetti esterni ed empirici in divenire rispetto al campo coscienziale in cui appaiono tra l'altro nel sogno accade una cosa analoga nei sogni noi possiamo esperire degli oggetti o meglio possiamo esperire dei contenuti onirici sempre sensibili possiamo avere esperienze sensibili come se però esse fossero oggetti situazioni esterne empiriche fisiche indipendenti da noi ed esistenti in uno spazio tempo assoluto o comunque oggettivo rispetto alla nostra esperienza il che però è falso e però nel sogno l'intuizione ci fa credere il contrario nel sogno l'intuizione ci fa pensare che i contenuti onirici siano scenari oggettivi esterni dal sogno e dal sognatore quindi questo dimostra che l'intuizione non va mischiata con i contenuti sensibili con le determinazioni sensibili altrimenti anche nel sogno dovremmo dire di avere a che fare con un albero reale fisico se lo sognassimo e lo esperissimo intuitivamente come un albero sensibile scusate come un albero fisico esterno e no e apri chiudo parentesi io chiudo qui la parentesi sui sogni cioè non voglio dire altro non voglio dire allora che il sogno sia la realtà che non lo so altre cose del genere non c'entra nulla e non c'entra niente il fatto che i sogni però siano l'esperienza elaborata di quello che viviamo da svegli non c'entra niente con la questione che sto rimarcando ritornando alla questione dell'apparile Severino ha mostrato che se il mondo apparisse a un io impidico il quale tuttavia appare però nello sfondo trascendentale dell'apparile si creerebbe un regresso all'infinito in cui non si arriverebbe mai a fondare effettivamente il soggetto e quindi sarebbe impossibile persino l'apparire perché non arrivando mai a porre il soggetto dell'esperienza ritenendo che il soggetto dell'esperienza debba essere il soggetto empirico non potendolo mai fondare non potendolo mai trovare si dovrebbe arrivare addirittura a negare l'apparire stesso del mondo il che è impossibile negare l'evidenza e la realtà eccetera quindi io sto semplificando soluzione l'io empirico non può essere in alcun modo il soggetto effettivo dell'esperienza ma fa parte dell'esperienza la struttura che esperisce il mondo è l'autentico soggetto e quindi il soggetto che esperisce la realtà è la realtà stessa attraverso il suo auto apparire noi che cosa siamo siamo coscienze finite ma eterne e siamo una modalità finita processuale dell'apparire vuol dire che noi siamo originalmente e sempre questo modo di apparire processuale di una parte alla volta e sarà così per sempre questa dimensione che noi siamo che è detta apparire finito è dentro l'apparire infinito ma rimane apparire finito anche dentro l'apparire infinito non è che diventi altro l'apparire infinito che è la coscienza infinita nell'eternalismo severiniano sperimenta tutta l'esistenza e anche la modalità finita ma sempre mantenendola finita ora la modalità finita dell'apparire è l'apparire processuale delle varie configurazioni che compongono una certa struttura la durata e qui vi rilaccio a Bergson in chiave severiniana che cos'è? è l'insieme delle varie configurazioni che ci appaiono in cui sono già iscritte anche tutte le sensazioni intuitive perché la durata è intuitiva è intuita non è semplicemente pensata è intuita però l'intuizione stessa è un insieme di essenti che sono delle sensazioni appunto intuitive che dalla prospettiva severiniana sono già eternamente presenti nelle varie configurazioni della nostra esperienza siccome l'eternità di cui parla Severino non è la sempiternità non sta dicendo che ogni momento ogni istante esista sempre in tutti gli altri sta dicendo che ogni cosa ogni aspetto della realtà in ciascun istante è eternamente presente in modo temporale ovvero che ogni istante non è veramente temporalizzato non dura veramente solo il momento in cui si trattiene nella nostra esperienza cioè quell'istante ma è tutto eternamente presente come appare a noi sembra difficile questo concetto sembra uno simbolo quello che ho detto cercherò di chiarirlo bene allora intanto la durata di Bergson è vero che non si può ridurre agli istanti della nostra esperienza come se gli istanti fossero separati parcellizzati giustissimo però tuttavia se gli istanti non avessero una durata per istante qui si sta intendendo una qualunque configurazione distinta dalle altre se ognuna delle configurazioni diverse dalle altre che caratterizza la temporalità della nostra esperienza nel suo apparire non avesse una durata non si tratterebbe mai cioè non apparirebbe manco se il suo apparire durasse zero non si mostrerebbe quindi una durata minima che non saprei come quantificare anche perché il quantificare è impossibile in questa struttura qui cioè non si può dire quanto duri un apparire perché se ha ragione severino la realtà è strutturata negli apparire stesso negli incomincianti apparire di ogni configurazione cioè di ogni totalità di determinazioni fenomenologicamente immediata e lo stesso misurare con un cronometro con uno strumento quanto duri un momento della realtà sarebbe un evento iscritto in questa struttura intrascindibile da cui non si potrebbe uscire fuori il tempo presuppone che l'oggetto misurato sia qualcosa che misura altro da se stesso cioè che non misura semplicemente se stesso ma che misura la successione di alcuni eventi perché poi il tempo non è separabile dalla successione di qualche evento se tra l'altro nulla mutasse la durata non apparirebbe perché la durata appare rispetto appunto a un variare di qualcosa è ovvio quindi sto dicendo tante cose però sono tutte importanti per inquadrare bene la questione quindi tornando indietro la durata di ogni configurazione non può essere zero non è quantificabile oggettivamente secondo i parametri della scienza ma perché la struttura ontologica della realtà prospettata da severino non permetterebbe di uscire fuori da quella struttura stessa e ogni misurazione sarebbe all'interno della struttura stessa l'apparire quanto dura dura quel minimo indispensabile per potersi manifestare per poter essere espedito però attenzione la durata di cui si sta parlando qui adesso è quella relativa all'apparire processuale finito cioè quanto si trattiene nella nostra esperienza processuale ogni singola configurazione questa situazione deve esserci anche se noi speriamo una continuità la continuità non può essere come posso dire astratta rispetto alle diverse configurazioni che si mostrano la durata è l'insieme continuo di tutte quelle diverse configurazioni la differenza non implica la loro separazione anzi anzi la separazione non è possibile se vi è differenza la differenza infatti può apparire solo nell'unità della relazione del rapporto tra differenti parti quindi anche per quanto riguarda l'esperienza fenomenologica la continuità dell'esperienza della durata è vero che noi non sperimentiamo un istante come se fosse una cosa isolata dagli altri momenti noi sperimentiamo una sorta di presente continuo che è come se durasse qualche istante non un istante però questa durata che noi speriamo come se fosse un insieme di istanti è composta da un insieme di istanti non è un'unica esperienza indistinta di un'unica configurazione ma di diverse che si succedano ebbene questa esperienza diversificata o meglio questa composizione di diverse configurazioni richiede che ognuna sia diversa dalle altre perché se non fosse diversa dalle altre non apparirebbe il passare da una all'altra e noi il passaggio lo esperiamo perché se non apparisse il passaggio da una configurazione all'altra non apparirebbe mai lo smettere di apparire di una e l'incominciare ad apparire di un'altra guardate che anche lo smettere di apparire in qualche modo appare nel senso che nella configurazione successiva alla precedente appare l'eterna assenza della precedente quindi appare ancora la precedente ma in forma astratta come eternamente assente e anche il passaggio da una configurazione all'altra non è un passaggio un movimento ma è a sua volta l'apparire di una configurazione in cui appare la parte astratta della precedente e la parte concreta della successiva quindi nessuna configurazione appare isolatamente rispetto alla precedente e rispetto alla successiva è un continuum è come una pellicola di fotogrammi dove però i fotogrammi non sono separati sono diversi ma collegati e inseparabili tra loro quindi l'unità non implica l'indistinzione tra i diversi momenti che la compongono dopo di che Severino ha spiegato che tutto quello che a noi appare e poi dopo non appare più continua eternamente ad apparire nell'apparire infinito quindi tutti i momenti passati presenti e futuri cioè tutte le configurazioni che noi interpretiamo come passate rispetto a quella presente e future rispetto a quella presente e presente rispetto a quella che si dà nell'attualità sono eternamente presenti e apparenti nel senso che appaiono nella coscienza infinita e però come appaiono come sono esperite anche da noi cioè le nostre configurazioni appaiono come sono esperite da noi anche nell'apparire infinito solo che nell'apparire infinito non appaiono solo processualmente ma appaiono tutte assieme in modo determinato e appunto il fatto che a noi in un certo momento appaia una cosa e non appaia più un'altra si giustifica con il fatto che nella configurazione che ci appare attuale ci appare anche l'eterna assenza delle precedenti e quell'eterna assenza appunto non è che trasformi l'apparire delle vecchie configurazioni come il loro trasformarsi del loro apparire in uno sparire no il loro apparire rimane eternamente apparire anche se non appare più nella nostra prospettiva e questa è sempre una questione che da approfondire legata alla struttura complessa e complessiva dell'apparire bene in conclusione quindi come si può intendere la durata allora la durata è l'apparire di tutte le configurazioni che stanno assieme e che sono composte da diverse forme di intuizione della durata che insieme compongono una sensazione complessiva che però è composita non è mai un'unità semplice l'esperienza della durata anche di diversi momenti non è mai un'esperienza semplice non è mai un evento semplice quella durata è composita unitaria ma composita ogni istante qui concludo per chiarire ancora meglio la teoressi severiniana ogni istante in realtà non è un istante mi spiego meglio volevo dire ogni configurazione del mondo non è un istante temporale non dura un istante temporale è percepito via l'intuizione che duri un istante ma quella intuizione è appunto una sensazione lo chiarisco lo ripeto quella sensazione quell'esperienza della durata è una sensazione intuitiva un evento una serie di eventi che è sperimentata come se durasse poco tempo e si trattenesse poco tempo nella nostra esperienza non è tale perché veramente la durata corrisponda a quanto tempo tra virgolette si trattiene nella nostra esperienza cioè a quanto viene percepita quel trattenersi no la durata è eterna nel senso della temporalità non nel senso della sempli eternità ma è eterna per come viene intuita quindi ogni evento che a noi appare durare un istante sarà eternamente sperimentato è eternamente sperimentato dall'apparire infinito come quell'eterno percepire quella durata come un istante un istante della semplice SEO SEO